L'incontro che era in programma dieci giorni fa con il Presidente, che è saltato all'ultimo momento, dopo che erano mesi che lo stavamo chiedendo, è stato fatto saltare con la scusa dell'indisposizione del Presidente. Noi abbiamo rispetto per le indisposizioni, quelle vere, ma non ci facciamo prendere in giro perché dopo dieci giorni dall'incontro che doveva esserci, questo incontro non è stato ancora riconvocato. Tutti i privati, gratuitamente, perché non costava nulla, hanno ristrutturato le loro case e l'Aler non ne ha ristrutturata nemmeno una. In più è una scelta questa, perché guardate che se voi valutate il PNRR arrivano miliardi in questo Paese, andate a vedere la distribuzione di questi soldi, vengono date alle imprese, vengono date a questi, vengono date alle grandi opere. Sapete cosa c'è per la casa? Zero! Non è stato fatto nessun investimento. in provincia di Bergamo non è previsto un alloggio aggiuntivo a fronte di mille famiglie che fanno domanda ogni volta che c'è il bando di avere una casa popolare, non è stato previsto l'invenzimento di un centesimo. A presto! 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 A presto!